Cominciare che si brucia la macchina, ora sempre ogni volta portano l'acqua. Ma vaffanculo! Ascolta, dov'è Coggiord? Come lo chiami? My friend. No, te sei My Friend. E poi come lo chiami? Come lo chiami Coggiord? Come lo chiami? Giord? Giorda. Giorda. Giorda, Giorda. Non avevo capito. Giorda. Dai, di qualcosa. No, la UF era prima che si brucia la macchina. Ma vaffanculo. Ascolta, raccontaci di ieri sera, cosa hai fatto? Oh, la UF era con questa cazzo di macchina fotografica. Dai, raccontaci... La serata di ieri, dopo le quattro patatine, cosa è successo. No, la serata di ieri. No, ora sono andata a me. No, ma la sera. E che non fatti confinare? Stasera, insomma. Sì, non fatti confinare. Stasera, insomma. Stasera, insomma. A casa sua, era sola. Insomma, devono darle... Alle due. Avete bevuto la grappa dopo? La grappa è salitino. Ho fatto quattro patatine. Poi via. Suo telefono lo butti. Chi è che ti manda il messaggio? Ciao. Io anche io, eh. Credo. Chi è il tuo ragazzo? Ciao. Ciao. Ma non posso fare un'unità così. Cioè, da nulla, non conosciamo, ma ci sposiamo. Ma perché? Oh, io scherzo. Sì. È scopo. Oh, ma... Quattro patatine qua. Oh, come è? Sì. Amasaki. Ti coaglio. Uè! Aspetta che... Ci tratta male qua, sai. Siamo clienti fissi. Quattro patatine. Quest'altro, ma ci sono aperte. Quest'altro, ma ci sono aperte! Mi sono aperte e non mi soppcio più. Mi chiedete? Muoviti perché ti sfacco la mochina. Sì. Che cariscimi. Salutate! Allora la tua serata di ieri è andata bene. Tipo un voto da 1 a 10 Dai, voto Voto, 1 Ma perché non ti piace? Hai la tua fidanzata? No, no Hai la tua ragazza Tu vuoi essere ragazza Tu vuoi essere ragazza Tu vuoi essere ragazza Ecco, hai capito? Eccolo là E me Sei d'accordo con questa filosofia di vita? Bravo, ottimo Gianni sei d'accordo? No, tu non fai tesso Allora, se ti spizzi Quante devono arrivare Però mi hai sentito Ridare così Grazie Poi se te le puoi portare Come? Non capisci niente Kawasaki Basta, dai, saluta Ciao Grazie a tutti.